Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video durante il quale vi presenterò la top 3 delle migliori saldatrici inverter. Vi invito a dare un'occhiata alla descrizione dove troverete tutti i link dei prodotti e le migliori offerte del momento e adesso passiamo alla top 3 delle migliori saldatrici inverter. Quindi cominciamo con la saldatrice green cut, cominciamo con questa saldatrice green cut che è probabilmente la macchina con il miglior rapporto qualità prezzo sul mercato. In effetti si tratta di un budget ridotto per l'acquisto di questa macchina ma considerando la qualità del prodotto il prezzo è davvero giustificato. L'aspetto positivo di questo modello è che è stato progettato specificamente per l'uso domestico quindi anche se non avete mai usato una saldatrice prima d'ora sarete in grado di familiarizzare con questo modello molto facilmente e senza problemi anche se si tratta di un modello per principianti e comunque una macchina sufficientemente potente per seguire facilmente tutti i tipi di lavoro. Poi troviamo la saldatrice olisi, passiamo quindi a un altro modello economico progettato specificamente per i principianti, questa saldatrice olisi. Prima di iniziare è bene sapere che questa saldatrice è attualmente in offerta speciale ed è quindi disponibile a meno di 100 euro. Questa saldatrice inverter è un modello eccellente progettato per essere molto più stabile, può quindi essere utilizzato dai principianti senza problemi e con facilità. E per finire ecco la saldatrice telwin, in conclusione ecco questa saldatrice telwin che è un modello di fascia alta, anche questa è una saldatrice di ottima qualità ma questa volta è più adatta a chi è abituato a usare una saldatrice. Ciò che apprezziamo ancora di più di questa saldatrice è il fatto che sia 100% made in italy. Questo fa sì che il modello sia di alta qualità resistente e duraduro. Ecco grazie per aver seguito questa top 3 spero che ti sia stata utile, non esitare a mettere un like, un commento e di iscriverti al canale è sempre un piacere, ti ricordo anche che ho messo i link di prodotti e le migliori offerte della descrizione, puoi vedere tutto ciò e su questa nota ti dico a presto per un nuovo video.